Il nostro monitoraggio c'è come, noi abbiamo la situazione sotto controllo, è che noi non abbiamo gli strumenti operativi per poter incrementare la raccolta differenziata nei vari comuni, noi possiamo dare le regole, come ripeto le regole funzionano perché noi abbiamo comuni che sono un'eccellenza, detto questo ci sono comuni che erano indietro e che hanno recuperato, quindi vuole anche dire che quando c'è la volontà da pari delle amministrazioni i risultati si ottengono.